Buon poveriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Inauno due chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Fare attenzione alle condizioni meteo con pioggia in A1 tra Sassomarconi e Firenze Sud, in A11 tra Firenze Peretola e Pisa Nord, sulla Fipilì vento forte tra Montelupo Fiorentino e Vicarello e tra Navacchio e la Deramazione Firenze e Livorno, vento forte anche in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento per l'Aurelia. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Tavarnelle e Sandonato in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!